L'allarme lo ha rilanciato durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia il procuratore generale Giancarlo Buonocore. In Veneto aumentano gli imprenditori che si affidano alla malavita organizzata, a sostituzione delle banche o addirittura per risolvere problemi. Un campo questo nel quale il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi ha accumulato negli ultimi anni parecchia esperienza. Non pensiamo ai grandi imprenditori, imprenditori, piccoli imprenditori che si trovano in difficoltà e che si rivolgono direttamente alla criminalità organizzata. Questo è un fenomeno che stiamo riscontrando. Questo non significa che l'imprenditoria in quanto tale abbia questi problemi, però è un fenomeno che ormai risulta emergente in diverse attività di indagine e qui, come poi è noto, perché molte di queste cose sono già venute fuori nei processi pubblici. Il timore che ora con le difficoltà economiche provocate dal coronavirus e il rischio fallimento che attraversa più di un'azienda possa rafforzarsi anche in Veneto la presenza di capitali di dubbia provenienza e di associazioni malavitose. Mi preoccupa il passaggio di proprietà delle attività economiche. In una situazione tra l'altro di crisi come questa, conseguente alla pandemia, dove il valore si deprezza, è più facile che ci siano questi interventi. Dobbiamo vigilare molto in accordo tra le forze dell'ordine, la magistratura e anche tutte le autorità politiche e istituzionali, perché se succede un fenomeno così a Venezia noi potremmo trovarci alla fine della pandemia con conseguenze pesanti sulla tenuta del tessuto economico del territorio.